600 i bagnini col fiato sospeso, la sabbia scotta ancora perché torna lo spettro della Bolchesta e la direttiva europea che rimette in discussione le concessioni balneari facendole finire all'asta. Tutti gli operatori balneari della provincia di Rimini, ma non solo, d'Italia, sono coinvolti, nessun escluso. Grande attesa per la sentenza della Corte di Giustizia europea che entro la fine di febbraio dovrebbe pronunciarsi sulla legittimità delle due proroghe concesse dal governo italiano alle concessioni dei maniali. La prima aveva fatto slitare la data del 2015, la seconda al 2020. Intanto il 20 febbraio si terrà l'Assemblea nazionale di Oasi con Fartigianato, diverse le autorità politiche non invitate, tra cui Pizzolante e Arlotti, rispettivamente del nuovo centrodestra e del Partito Democratico, intervenuti anche nella trasmissione 4412 proprio su questo tema. Noi abbiamo insieme al collega Pizzolante, abbiamo fatto un'operazione con questa legge di stabilità per salvare oltre 200 impresi dei cosiddetti pertinenziali, che sono balneari, che rischiavano addirittura in alcuni casi, abbiamo già ricevuto la lettera dai comuni per la decadenza delle concessioni. E quindi abbiamo fatto questa operazione e l'abbiamo traguardata al 30 settembre del 2016. Noi per quella data lì dobbiamo avere una legge. Non siamo tanto preoccupati per quel che riguarda la proroga o quello che dirà la Corte di Giustizia europea. Noi siamo fortemente interessati invece ad una nuova legge che chiarisca finalmente qual è il futuro delle imprese balneari. Parlo dell'impresa balnearia, neanche tanto del gestore.